Buonasera e benvenuti allo Sport City per l'ultima giornata di Serie A2 della Lega Calcio 8 Atletico Fiumicino contro Real Gimer Atletico Fiumicino prova a uscire dalle posizioni difensive con la vittoria di un rimpallo al centrocampo da parte di Violante poi bene in verticale per Buonaventura l'assist di Crescenzo la piazza fuori spiegabilmente ecco la reazione del Real Gimer con l'apertura lunghissima c'è lo stop dentro e tenta il pallonetto Pavone alto il contropiede del Real Gimer, attenzione alla transizione a sinistra 3 contro 3, c'è Stinziani, prova all'azione poi Bartolini il tiro cross, ci mette il sinistro Onofri per il vantaggio del Real Gimer, siamo 1 a 0 Il Real Gimer sembra averci preso gusto e attacca all'altezza del lato corto con il numero 16 di Crescenzo il cross è deviato fuori, poi l'Atletico Fiumicino prova a uscire ma c'è Coltella buona palla recuperata, il tiro e la deviazione vincente Distinziani vale il raddoppio del Real Gimer, siamo 2 a 0 L'Atletico Fiumicino non ci sta, Colmoro Ventura che poggia per il tiro di Limongeli un gran tiro ad incrociare, che accorcia le distanze l'Atletico Fiumicino fa 1-2 con Limongeli Il Real Gimer prova a ristabilire le distanze, dal lato corto c'è un tiro cross deviato l'uscita del portiere è difettosa, allora sbarbato sulla traversa a porta vuota Violante servito a destra, prova l'assist dentro, c'è il rimpallo il Real Gimer però la lascia lì, attenzione a Violante sul primo palo Violante trova il 2 a 2 dell'Atletico Fiumicino che completa la rimonta Il Real Gimer vuole riportarsi avanti allora Turchetta ma esce alla grande Apicella poi c'è la ribattuta e ancora Apicella a due mani l'invettiva a destra dell'Atletico Fiumicino con Violante che la fa scorrere poi c'è la finta del compagno che lo favorisce Violante dentro e Jakob 3 a 2 di Jakob l'Atletico Fiumicino ora è in vantaggio, grande azione di Violante Atletico Fiumicino in verticale con De Crescenzo in tre in area, messo giù e calcio di rigore secondo l'arbitro lo stesso De Crescenzo sul punto di battuta ma col sinistro De Crescenzo la parata del portiere e poi incredibile non riescono a segnare Real Gimer in difficoltà, l'Atletico continua ad attaccare qui con De Crescenzo libera il sinistro, la respinta del portiere poi arriva il 4 a 2 di Violante che probabilmente chiude i conti Violante, il più lesto ad avventarsi sul pallone Real Gimer non c'è più in campo allora l'Atletico Fiumicino continua sulla tre quarti il gran destro ad incrociare di Violante ancora lui, il 5 a 2 stavolta di destro di Violante gran gol Real Gimer va in pressing alto ma arriva ora il triplice fischio del direttore di gara che consegna la vittoria 5 a 2 all'Atletico Fiumicino sul Real Gimer Atletico Fiumicino che quindi chiude in maniera positiva la sua regular season all'interno della serie A2 della Lega Calcio 8